Si potrà mai creare un oscilloscopio tramite una scheda audio? Beh, la risposta è sì. Si può fare e non è neanche troppo difficile, poiché una scheda audio, senza nemmeno andare a fantasticarci troppo, contiene tutti i componenti di cui abbiamo bisogno per realizzare un oscilloscopio a tutti gli effetti. E in questo video ti spiegherò come è possibile. Ciao, io mi chiamo Lorenzo Neri e ti do il benvenuto sul canale di Elettronico Open Source. Iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutte le tematiche che affronteremo assieme. Tra schede audio e oscilloscopi ci sono ben due analogie che non vanno assolutamente sottovalutate anche perché sono alla base di questa trasformazione, ovvero prendere una scheda audio e trasformarla in un oscilloscopio a tutti gli effetti. Naturalmente manca la componentistica di visualizzazione, ma questo è possibile farlo sia tramite protocollo USB sia tramite altre periferiche video. Parliamo un attimino di quello che sono i componenti base che permettono questa trasformazione. Innanzitutto una scheda audio è provvista sia di una linea in ingresso sia di diverse linee in uscita, o viceversa, o addirittura tutte e due. Quindi dal punto di vista degli input, che nient'altro sono che microfoni e strumenti, abbiamo a tutti gli effetti una linea che permette di fare conversione analogico-digitale. Quindi possiamo effettivamente tradurre segnali in formato digitale e quindi trasformarli in dati. Questi dati naturalmente possono essere trasformati nuovamente per poter visualizzare questi segnali o addirittura mandarli in uscita attraverso quello che è la sua controparte, ovvero il convertitore da digitale ad analogico. Questo di fatto può essere utilizzato non solo per visualizzare i segnali su un eventuale display, ma può essere addirittura utilizzato per fare da generatore di frequenze. Quindi non solo la funzione base di un oscilloscopio, ovvero analizzare i segnali, ma addirittura generarne, proprio come dovrebbe fare un generatore di funzione. Ho detto prima frequenza, in realtà intendevo dire funzione, perdonatemi. C'è solamente un piccolo problema che affligge le schede audio, ovvero che le correnti utilizzate per gestire gli input e gli output sono in genere relativamente piccole. Per far sì che l'oscilloscopio che vogliamo realizzare funzioni in maniera decente, dovremo utilizzare degli amplificatori di almeno un rapporto 100 a 1. Naturalmente questa introduzione è per farti capire quali sono le basi che servono per realizzare, o meglio, trasformare una scheda audio in un oscilloscopio. E naturalmente ti voglio lasciare qua, in descrizione al video, un tutorial che ti permette di essere guidato in questa trasformazione. Ma naturalmente se avessi domande, dubbi o perplessità a riguardo di questo argomento, ti invito a lasciare un commento qui in descrizione.